L'incasso di Patrizio Oliva e qualche cosa la metà del previsto per 1429 paganti. Come abbiamo accennato, forse il futuro professionistico di Oliva e questo riguarda la categoria degli alternanti qui in campo mondiale. Sono elementi di grandissimo valore da non prendere assolutamente in considerazione in questo momento come Duran, Leonard e Irma. Ed eccoci alla conclusione. Il 25 ottobre Oliva dozzerà a Pordenone contro un altro brasiliano beneditto Dos Santos. Per ora la sua borsa si aggira sui 2 milioni più dei percentuali. Ed eccoci alla conclusione di questo esordio professionistico. Ecco questa immagine con Oliva, braccio elevato, in segno di vittoria. Speriamo che sia la prima di una lunga serie.